e a chi è qui a questa seconda giornata di progettare la transizione grazie da parte del nostro team tank al comune di Livorno che ha voluto investire sulle riflessioni che già ieri si sono sviluppate e grazie davvero a Ludovica Marinaro a cui passo subito la parola perché ha messo in campo una passione, una dedizione, una competenza oltre il normale per mettere uccire insieme tutte le iniziative che si sono già tenute e che si terranno nella giornata di oggi le passo subito la parola per illustrarle grazie Michele, buongiorno a tutti iniziamo subito questa seconda giornata purtroppo siamo un pochino in ritardo ma velocemente a illustrare quello che sarà lo sviluppo dei lavori di oggi il primo panel che inizierà a breve sarà quello sul tema del condividere riprendendo le parole chiave del nostro sottotitolo ripensare, condividere e produrre nuovi scenari per l'urbano contemporaneo faremo oggi delle riflessioni sul tema dell'accessibilità, della partecipazione e dell'innovazione sociale e partiremo appunto con i lavori della mattina che si concluderanno verso mezzogiorno e mezza il pomeriggio invece vede un'altra sessione sul tema di approfondimento con un focus appunto sulla produzione quindi su come andare effettivamente ad incidere per inaugurare uno sviluppo che sia circolare una maniera di intendere quindi il lavoro le riflessioni sui nuovi motori il nuovo agire territoriale e appunto economia circolare e sviluppo territoriale con moderatrice l'ingegnere Irene Sassetti e tanti altri ospiti che saranno con noi qua direttamente a Livorno e in connessione anche da remoto tramite la piattaforma e lo sharing sulla nostra pagina di Facebook la giornata si concluderà poi nel pomeriggio con la tavola rotonda nel quale avremo appunto il ministro Andrea Orlando presidente di Tess Stefano Frangerini presidente di Ance Toscana Lega Ambiente Marco Ravazzolo il Confindustria la nostra Silvia Viviani assessore all'urbanistica di Livorno e ovviamente il sindaco Luca Salvetti sindaco di Livorno che è stato appunto fra i promotori e gli ideatori stessi di questa due giorni sarà con noi anche l'autorità di sistema portuale di Livorno di questa parte del tirreno adesso non ricordo specificatamente la denominazione precisa però tutti per riflettere intorno ai diversi temi che hanno animato questa due giorni per mettere a sistema tutti i risultati le riflessioni e per portare diciamo ad un nuovo step di sviluppo quanto in questi due intensi giorni di lavoro abbiamo potuto ascoltare abbiamo potuto condividere e proprio per cercare di tradurli e di metterli ad un livello successivo di applicazione e riflessione la serata proseguirà dalle 20 alle 22 così come ieri sera con un programma a cura della fondazione Goldoni nominato di Hangar Nights quindi questo è il programma della giornata fra un minuto iniziamo appunto con la prima sessione che è quella del panel condividere io ringrazio Michele Fina di essere stato qua con noi e insomma sarà la prima di una dei viaggi che inaugureremo con progettare la transizione ecologica grazie 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 a tutti. Buongiorno a tutti. Ben ritrovati. La seconda puntata di progettare la transizione ecologica dopo la prima di ieri, oggi siamo di nuovo in questo appuntamento per riflettere intorno al tema dato all'iniziativa. Io mi presento, intanto mi chiamo Luigi Pingitore, sono architetto, faccio varie cose per sintetizzare, mi occupo di programmi di trasformazione urbana. In questa veste accolgo gli ascoltatori che ci seguono in streaming e i presenti in aula. Parto da progettare la transizione ecologica perché trovo che il titolo sia bellissimo. Sono due espressioni, quella di progettare e quella di transizione ecologica che consentono di fare un ragionamento. Io voglio aprire proprio da qui e lo voglio fare ringraziando questa iniziativa che considero davvero meravigliosa perché riusciamo a ragionare su temi complessi in un angolo di città che è esso stesso simbolico e paradigmatico di un modo nuovo di pensare la città e lo spazio. Quindi i ringraziamenti vanno davvero all'assessora Viviani e all'amministrazione tutta e a Ludovica che hanno messo tutte le energie possibili per creare questa iniziativa. Ripeto, parto dal titolo progettare la transizione ecologica perché qui siamo in un momento storico, siamo ebri. Viviamo l'ebbrezza del piano nazionale di riprese e resilienza e siamo peraltro ancora a rischio a rischio perché siamo nella pandemia, non ne siamo ancora usciti, ma siamo soprattutto indietro rispetto alle sfide epocali che la transizione ci chiama ad affrontare. e qui dobbiamo evitare l'errore di associare il bisogno di rilancio che gli stati hanno dopo la pandemia, quindi come risposta alla pandemia, con la transizione. Sono due cose diverse. La transizione è qualcosa che ha bisogno di un passo breve e di uno sguardo lungo. Il lavoro che è stato fatto con il piano di ripresa e resilienza da parte dell'Unione Europea, così come l'ha fatto gli Stati Uniti, così come tutti gli stati del mondo si sono impegnati a fare, è un lavoro che appunto guarda alla ripresa e al rilancio. La transizione invece è un tema che guarda un orizzonte temporale molto più lungo e noi dobbiamo avere questo in testa. E questo è il punto da cui partire. perché ci dobbiamo fare la domanda, in fondo, che si parlava di transizione prima della pandemia. Se ve lo ricordate bene, Ursula von der Leyen è partita col New Grid in. L'Europa era, diciamo, impostata con lo sguardo al futuro, prima della pandemia, seguendo i riferimenti di un'Europa più resiliente, più sostenibile e più giusta. Poi è arrivata la pandemia. Quindi noi eravamo già in un tema di transizione ecologica e siamo ancora in un tema di transizione ecologica. Quindi, diciamo, questo lavoro, passo breve e sguardo lungo, è qualcosa che dobbiamo proiettare in un arco temporale che va almeno al 2050. Pensate solo ai tanti soggetti che prima della pandemia hanno cominciato a lavorare su questo campo. Pensate per esempio al forum Diversità e Disuguaglianze di Fabrizio Barca e riferimenti sulla giustizia sociale. Pensate per esempio all'ASVIS del Ministro Giovannini, eccetera, eccetera. Quindi ci sono tanti soggetti, tante figure che nel panorama hanno cominciato a parlare di transizione ecologica. E c'è Tess, naturalmente, di cui mi onoro di far parte, che ha fin nella titolazione, come dire, nella sua denominazione, il tema della transizione. E allora c'è un ringraziamento da fare alla città di Livorno, da questo punto di vista, perché tutte le amministrazioni sono impegnate in questo momento, come dicevo prima, sono ebbre di PNRR e sono tutte impegnate a guardare come riuscire a organizzarsi, a efficientare la macchina, a spendere bene le risorse nel poco tempo dato. La transizione, proprio perché guarda lontano, costringe le amministrazioni invece a pensare in una maniera diversa. E allora questo binomio tra l'organizzazione per rilanciare le città, le nostre città, le nostre comunità e lo sguardo lungo a cui ci porta la transizione, questo binomio, beh, la città di Livorno è riuscita a farla. Questa iniziativa, in fondo, lo dimostra. È una città media dentro una regione che è se stessa, meno di 3 milioni e mezzo di abitanti in qualsiasi altro posto del mondo sarebbe appunto una città media, invece qui, in questa città, proviamo a fare uno sforzo e a parlare appunto di progettare la transizione ecologica. E allora, se tutto questo è vero, il tema di questa mattina, vi leggo l'incipit, come dire, dell'iniziativa. L'incipit di questa mattina è quello di parlare di accessibilità, di partecipazione, di innovazione sociale. Temi, il diritto alla casa, la qualità dell'istruzione, gli strumenti del governo del territorio, che naturalmente sono temi pregnanti, temi che occupano le nostre vite e temi che ci richiamano a due o tre concetti che voglio brevemente sottolineare prima di passare la parola ai relatori. Chi mi conosce lo sa, quando parliamo di paesaggio e ci riferiamo all'urbano contemporaneo, a cui si richiama la nostra iniziativa, io penso che il tema del paesaggio si riferisca prima di tutto a un bisogno di bellezza. Il paesaggio nel contemporaneo urbano è soprattutto questo. Altro tema fondamentale è sicuramente quello dello spazio pubblico. Ieri è stato toccato ampiamente nelle relazioni, prima dell'assessora Viviani, ma poi di Ilda Curti, un po' in tutte le relazioni. Lo spazio pubblico nella pandemia è anche quello stesso spazio pubblico che noi abbiamo cominciato a ripensare nel momento in cui abbiamo riflettuto sulla necessità di un aggiornamento degli standard urbanistici. questo è un altro tema fondamentale. Poi c'è la rigenerazione delle città, legata alle politiche pubbliche, alle politiche proattive, quelle politiche che si fanno attraverso convenzioni, ma convenzioni non nel senso legale, ma nel senso di strumenti pattizi fra le comunità, dove non deve prevalere la dimensione regolativa, dove non deve prevalere la dimensione della previsione, ora per non usare paroloni, ma insomma il tema degli strumenti di governo del territorio è ancorato a vecchi strumenti che ha bisogno di un aggiornamento, ma invece si deve parlare di patti per la convivenza urbana. E' questo rigenerare e lavorare nel contemporaneo urbano. Allora lo facciamo su questi piccoli spunti iniziali che ho provato a dare, quindi spazio pubblico, quindi bisogno di bellezza, quindi bisogno di politiche pubbliche proattive, avendo invitato dei relatori che su questi campi si sono spesi molto. Partiamo dalla Catalunia, ma poi abbiamo anche un focus su quello che può essere considerato in questo momento appunto il diritto alla casa, con tutto quello che ne consegue, i temi del rinnovamento della bellezza del paesaggio urbano. Quindi do subito, cedo la parola a Ludovica che introduce il primo relatore e naturalmente richiamo tutti a stare nei 30-40 minuti a disposizione per dare tempo a tutti di fare le proprie comunicazioni e di concludere in tempo utile. Grazie. Grazie Luigi, grazie di questa introduzione. Chiediamo al nostro primo ospite di collegarsi, di accendere la telecamera, Pere Sala. Pere Sala è il direttore dell'osservatorio del paesaggio della Catalunia, laureato. Lo abbiamo connesso? No, al momento non ancora. Bene, non c'è problema. Sì, sì, appunto. Tanto non era vincolante, diciamo, appunto l'ordine della nostra chiacchierata. Pertanto appena Pere potrà collegarsi passerà ad uno dei prossimi interventi. Allora invece chiediamo... Luigi, cosa dici? Sì, sì, no, io dicevo, andiamo avanti, chiedo a Oscar Borsato di... No, ma cosa dici? Facciamo il... Ah, no, ok, va bene. Allora proviamo con Alfonso Femia. Sei già connesso? Sì. Sì. Chiediamo se appunto l'architetto Femia è connesso già con noi, se può accendere la telecamera. Eccolo. Sì, ma non funziona la camera. Non mi funziona la camera. No, o sea, non mi da permiso alla camera. Mi camera funziona, però... Non sa che ci sono... Ecco, nel frattempo c'è stata una sovrapposizione, perché è arrivato Perea. Allora, proviamo... Ecco, Alfonso, proviamo allora a ricollegarci con il nostro relatore spagnolo, vediamo se riusciamo a non sovrapporci. Proviamo un pochino. Pera? Sì. Hola. Hola. Lo escuchai? Ludovica? Hola, buon dia. Buongiorno. Creo, Ludovica, che il host non mi dà permiso per la camera. Allora... Dobbiamo... Bueno, espera un momentito, che ora... Intentiamo di cercare la connessione. Allora sì. Allora sì. Allora sì. Allora sì. Hola, buon dia. Bienvenido. Buon dia. Estava qui, eh? Estava qui desde hace 20 minuti. Simplemente che non mi ascoltavate, credo. Ok, ok, ok. Io seguirò facendo la tua presentazione in italiano e poi cerchiamo un po' questo tema di fare come una partecipazione in italiano e in spagnolo. Bueno, ah sì, parlando lentamente. Appunto, Pere Sala, direttore dell'Osservatorio del Paesaggio della Catalunia dal 2015, laureato, formato in scienze ambientali, scienze naturali, ma con una formazione che spazia attraversato la fotografia, attraversa diversi mezzi e diversi espedienti per appunto accostarsi e analizzare, osservare le dinamiche complesse del paesaggio. L'Osservatorio del Paesaggio della Catalunia è una realtà all'interno del panorama internazionale degli Osservatori del Paesaggio di assoluto spicco, di assoluta avanguardia. È stato sin dalla sua creazione nel 2015 fra i primi centri di studio, di ricerca, di analisi che ha messo effettivamente in pratica, è riuscito ad implementare nella maniera diciamo più fedele ma anche più propulsiva quello che è stato il portato della Convenzione europea del paesaggio. E pertanto si può dire che nel momento in cui andiamo oggi a sottolineare l'importanza e la necessità di veder attuati in primo luogo ma addirittura implementati, portati ad uno stadio successivo quelli che sono i principi che hanno animato la Convenzione sin dalla sua concezione dal Consiglio d'Europa fino all'applicazione sui territori, l'Osservatorio è assolutamente fra gli esempi meglio riusciti e sicuramente una best practice a livello internazionale. Tutto il territorio, il Tato, soprattutto, è rappresentato all'interno di sette cataloghi che rispecchiano appunto la divisione amministrativa e in unità di paesaggio della Catalunia con un'attenzione particolarissima alle persone, alle comunità, al senso di comunità e al senso di appartenenza, di riconoscimento dei propri paesaggi. Oggi, Pere Sala, che è qui con noi in connessione diretta da Barcellona, giusto per attraversare e sempre svalicare il Mediterraneo in una connessione da un porto, da una città-porto come Livorno fino appunto a un'altra grande città-porto come Barcellona, ci porterà una testimonianza di come appunto proprio sul tema della condivisione, del condividere, del dialogare, di come e di attraverso quali metodologie, in che modo, diciamo, si può fare partecipazione e si può tradurre i desiderata, le aspirazioni, ma anche rappresentare le necessità effettive di tanti contesti differenti, mantenendone la complessità, all'interno della pianificazione del paesaggio. Un intervento che metterà in luce anche le metodologie, che metterà in luce le difficoltà, le criticità e anche tutti i pro di un approccio di questo tipo. Io non aggiungo altro, Pera potrà presentare il suo intervento in spagnolo, così abbiamo concordato, cercando di parlare molto lentamente, all'occorrenza per, se avremmo necessità, potrò tradurti io, quindi saremo qua pronti a intervenire qualora ci fosse bisogno. io ti lascio la parola e ti ringrazio per aver accettato il nostro invito e per essere qua con noi. Te agradezco molto per essere qui con noi. e, bene, tu mismo, vamos con la presentazione, puoi comparte la tua pantalla. Grazie. Buon dia, buongiorno, molte grazie a TES, associazione di riferimento in Italia, a Ludovica Marinaro, grazie Ludovica per la parola. Per avermi invitato a questo interessante evento, è un onore partecipare qui oggi. Lamentablemente, non parlerò in italiano, lo farò in spagnolo, intentare facerlo lentamente per che sia comprendito. E, ademais, tal e come abbiamo pactato con la organizazione, fare il PowerPoint, che sta in inglese, per che sia meglio comprendito. Quindi, spero che si stai condividendo. È così? Sì, sì. Perfetto. Bueno, come come ha detto ora Ludovica, Marinaro, io mi centri, soprattutto, in processi di participazione e di implicazione di comunità in la gestione e ordinazione del paisaggio a partir della esperienza del Observatorio del Paisaggio. Hablaré di differenti iniziative, farei un pequeno flash, dedicaré pochi minuti a cada una di loro per poter vedere diversità, partendo di escala del territorio differente e territori nel quale hai ámbitos urbanos, però tamén hai ámbitos rurales, naturales, eccetera. Per lo tanto, è una mirata global al territorio e non solo una mirata in questo caso a los paisaggi urbanos. Partiamo, nel lavoro del Observatorio del Paisaggio, partiamo sempre del Convenio Europeo del Consello d'Europa. Saben che è un convenio firmato nel anno 2000, hanno passato molti cose, ora Luigi Tinguitore, il moderatore, parlava dei reti che ha questo progetto di progetto la transizione ecológica, desde hace 21 anni hanno passato un' question del cambio climatico, la segura alimentare, la question della salute, e lo abbiamo visto con la pandemia, il reto a transizione energética, sono nuovi reti che stanno emergendo negli anni, però ancora pensiamo che il Convenio Europeo del Paisaggio come tratato internacional, il primo tratato internacional che reconoce la importanza dei paisaggi, è un instrumento molto válido per fare frente a tutte queste questioni e altri che in Europa e la traduzione in Cataluña è questa lei di gestione, protezione e ordenazione del paisaggio del 2005 e questo è il nostro marco di lavoro. Il observatorio, lo comentava ora Ludovica, è un punto di encuentro dove la reflexione teoria e la práctica, la applicazione se juntano a favor delle politiche del paisaggio, è un centro di asesoramento al governo, a la administrazione, a la ciudadanà in temi di paisaggio, è un espacio abierto, receptivo, è un punto di encuentro che ha la peculiarità che sta tra l'administrazione e la società civile, è a dire, non è una agenza gubernamental, non è una ONG, sta in medio e questo tenendo in cuenta la complexità del paisaggio e la idea polièdrica che hai detrás del paisaggio favorece la gestione, il dialogo, comunicazione, intercambio entre ámbitos sociali, gubernamentali, académici diferentes. Il observatorio è un ente che va reinventando con il tempo, tenendo in cuenta i reti che abbiamo e sempre desde questi principi del pluralismo e la diversità e intenta sempre hace come del laboratorio, è come una incubadora che va generando nuovi instrumenti, nuove herramienti, che incluso a veces van más allá delle limitazioni che inevitabilmente la administrazione tiene in sus proprii processi. Ora vamos a ver alcuni di questi instrumenti, alcuni di queste esperienze, 5 particolarmente, e per poter vedere diversità come ho comentato antes. Per tanto, l'objetivo del observatorio non è solo dar apoyo a le politiche públicas de ordenazione del territorio e del paisaje, che è uno de motivos di creazione, aiutare la educación, la funzione educativa e in definitiva incrementare il conocimento e la sensibilità, la sensibilizzazione, la concienciazione della società in materia del paisaje. E per fare questo è imprescindibile con le comunità, con le persone, con le persone del territorio, al nivel que podemos. Es decir, hai un limite también, por un tema de tempo, presuposto, etcétera, pero intentamos sempre hacer esto con trabajo con el territorio y con las personas, con las entidades, con los agentes, etcétera. Bueno, y ya para finalizar esta primera parte de introducción del observatorio, aquí ven algunas de las funciones, algunos de los tipos de actividades que hacemos precisamente para introducir paisaje, para introducir los valores del paisaje y los principios de y los objetivos en diferentes políticas públicas. Ahora podría ir enumerando una a una ejemplos de cómo hacemos la ordenación territorial, en movilidad, en energía, en cultura, etcétera. Esto irá saliendo a lo largo de la presentación, pero aquí vemos una visión más global. Y también trabajo con los ayuntamientos, cooperación internacional, sensibilización, formación a técnicos, etcétera. Esto es un poco una introducción al papel que tiene el observatorio hoy en las políticas de paisaje en Cataluña, basado siempre en los principios del convenio europeo de paisaje y en la ley de paisaje del año 2005. Visto esto, vamos a entrar ya en materia y vamos a ver algunos ejemplos de gestión y ordenación del paisaje con comunidades, por lo tanto, me voy a centrar más en el proceso pero sí que iremos comentando algunas cosas. Antes de empezar, antes de verlo, partimos de unas ideas claras que nos parecen importantes. Primero, el conocimiento, conocer el territorio, conocer el paisaje, que es básico para tomar decisiones de un paisaje. Por tanto, es importante generar este conocimiento, es una de las funciones que hacemos con las personas, con los ciudadanos, generar conocimiento, compartir, transferir este conocimiento y metodologías a toda la sociedad, invitando a la participación de agentes de todo tipo. El paisaje, y esto es así porque entendemos que el paisaje es el resultado de la confluencia de diferentes miradas, diferentes percepciones, diferentes interpretaciones y diferentes sensibilidades. Esto hace más compleja la gestión y ordenación del paisaje, pero hace más rica y más interesante los resultados. Y cada una de estas miradas es necesaria tener en cuenta estas miradas para entender las lógicas, las dinámicas que tienen hoy en día los paisajes, su idiosincrasia, sus características y, por lo tanto, para su adecuada gestión. Es tener en cuenta todo esto. no hay paisaje ni gestión ni ordenación del paisaje que valga sin las comunidades. Vivimos en comunidad y es con estas comunidades que compartimos percepciones, compartimos experiencias del paisaje y esto es fundamental en nuestro trabajo. Y este diálogo diario que las sociedades contemporáneas tenemos con nuestros paisajes precisamente demanda, pide, hace necesario en estos momentos esta interdisciplinariedad en las metodologías, espacios de compartición de ideas, de cooperación, de consenso entre sociedad civil y las esferas pública y privada. Estos serían los principios que rigen un poco nuestra actividad en el ámbito de la ordenación, en el ámbito de la integración del paisaje en la planificación. Vamos por la primera que de hecho Ludovica ya ha hecho mención antes, la primera de las iniciativas que son los catálogos de paisaje como instrumentos que probablemente conocen porque ya empezaron a trabajarse en el año 2005, ahora estamos haciendo el último, el octavo en estos momentos terminándolo y son estos documentos de generación de conocimiento para diagnosticar, para caracterizar los paisajes, sus valores, sus dinámicas y definir objetivos de calidad paisajística. y esto es un instrumento que se establece en la ley de paisaje de Cataluña. El objetivo es precisamente introducir este conocimiento en la planificación territorial y este es un ejercicio no es fácil, ha sido un proceso complejo y seguimos aprendiendo en estos momentos cómo hacerlo, es decir, es un proceso que vamos aprendiendo sobre la marcha, cómo introducir conocimiento de paisaje, teniendo en cuenta la dimensión objetiva y subjetiva del paisaje, cómo introducirlo en la planeación, en la planificación, pero además no solo en la ordenación territorial y urbanística, sino también en políticas sectoriales, cultura, turismo, etcétera, y esto lo hemos hecho en ocho ámbitos territoriales que son ámbitos de planificación territorial. Este trabajo de generación de conocimiento para todo el territorio en cada uno de estos ámbitos se ha hecho acompañado siempre de participación pública. ¿Para qué? Para implicar la sociedad en la identificación y en la evaluación de su paisaje y en la definición de objetivos de calidad paisajística, es decir, qué paisaje queremos en el futuro, qué territorios queremos, para recordar a los ciudadanos que tienen derecho a paisaje y a disfrutar del paisaje, de un paisaje de calidad, desde una forma respetuosa y además para intentar entender la percepción de las personas en relación en el paisaje y sobre todo las cuestiones que son más intangibles, que dependen más de las emociones, de los sentimientos, de cómo se siente la relación entre las personas y su territorio, sentido lugar, sensaciones, emociones, etcétera. Esto ha sido fundamental en nuestros trabajos y esto se ha hecho en diferentes fases, en cada una de las fases de la elaboración de los catálogos y con diferentes metodologías y para los diferentes territorios, con diferentes mecanismos, que ahora no entraré en detalle porque hay un libro que luego mencionaré donde está todo explicado. Pero uno de los resultados más importantes de este proceso es este mapa, que es mapa de 134 unidades de paisaje, 134 paisajes, que reflejan precisamente el resultado también de procesos participativos preguntando a las personas con qué paisaje se sienten identificados, con qué territorio se relacionan, cuáles son sus ámbitos vivenciales de referencia, sus territorios vivenciales. Y esto es muy importante luego para ver para trabajar con las comunidades sobre un paisaje determinado. Aquí tenemos algunos ejemplos de esta diversidad de paisajes, vamos a ver algunos, como pueden ver, pues hay mucha diversidad de paisaje y este mapa se ha convertido en una herramienta que va más allá más de la descripción. No es solo una descripción de una diversidad, es ya una herramienta de planificación. La nueva ley de territorio que está proyectándose y escribiéndose en estos momentos para ir al Parlamento, ya reconoce las unidades de paisaje como herramientas para ordenar y gestionar los espacios abiertos. Y esto será resultado de estos procesos participativos. Otros resultados muy importantes ha sido la identificación de valores, de valores estéticos, de valores ecológicos, de valores sociales, de valores históricos, de valores simbólicos. Todos estos mapas, estas cartografías son fruto también de la participación. Hay un trabajo técnico especializado naturalmente, expertos, arquitectos, geógrafos, ambientólogos, etcétera, agrónomos, etcétera, pero de trabajo compartido con la población, con los agentes para ir desarrollando, para ir identificando todos estos valores y estas transformaciones, estas dinámicas, es un territorio vivo y aquí es donde aparecen los retos que comentábamos antes, el cambio climático, seguridad alimentaria, las cuestiones de salud, donde van apareciendo. y esto para poder definir objetivos de calidad paisajística para introducirlos en la planificación territorial, en esta planificación territorial. Bueno, hasta aquí y aquí tienen el libro la metodología que recoge la metodología de elaboración de los catálogos de paisajes. Bueno, esto sería una herramienta que se ha trabajado con muchas personas a diferentes puntos del territorio, en todo el territorio y que nos ha permitido tener una visión amplia, una caracterización de toda Cataluña desde una perspectiva de paisaje y con la misma metodología y desde esta aproximación participativa. Esto es un ejemplo de directriz de paisaje, por lo tanto, cómo este conocimiento se está incorporando en la planificación territorial. Bueno, esto es lo que comentaba antes, que es un revento que se está haciendo poco a poco, no solo en los planes territoriales parciales, sino también en planes sectoriales, en planes de la costa, en diversos tipos de planes que están haciendo desde la Generalitat, desde el Gobierno, desde la planificación territorial. Ahora, vamos al segundo ejemplo, bajamos la escala, bajamos la escala, nos vamos más a un ámbito más local y a una unidad de paisaje, una de las 134 de paisaje que hemos visto antes, lo ven en el mapa de la izquierda, es la unidad de la Sardaña, de la Vall Sardana, pero además es, en este caso, transfronterizo. Aquí el reto estaba en cómo poder planificar o poder ordenar el paisaje de un territorio transfronterizo, porque en medio de esta fotografía donde hay esta ciudad que se llama Puchardà, aquí al lado pasa la frontera con Francia, pero es el mismo paisaje, por lo tanto, cómo trabajar un mismo paisaje, pero con ámbitos competenciales diferentes, con legislación diferente y con miradas incluso a veces diferentes y con comunidades que van cruzando la frontera, van cruzando la frontera de un lado a otro, porque van a comprar el pan, no van a comprar el queso o van a lo que sea, hay una relación entre las fronteras entre las personas al lado y lado pero nunca se había pensado en ordenar y pensar conjuntamente el paisaje y esto ha sido un reto también y aquí también se han hecho procesos participativos para entender cuáles son los elementos clave el carácter que es aquello que define el paisaje de la Cerdaña precisamente para luego pensar en arquitectura en urbanismo en agricultura fíjense las diferentes estructuras elementos valores que se han ido identificando más a nivel y para al final tener un mapa que es un mapa muy grande ahora lo ven aquí en la pantalla en pequeño pero es un mapa que hace más de un metro y medio de grande con muchos elementos con muchos valores y me gustaría destacar dos aspectos tres aspectos de este mapa el primero que es transfronterizo pero la frontera no se ve en el sentido que el paisaje no tiene fronteras es un trabajo de unidad transfronterizo la segunda fíjense que esta parte morada esta parte más roja morada de aquí es donde hay más elementos y es la parte central del valle es la parte donde la gente vive el esfuerzo ha sido en buscar los elementos en ordenar en hacer valores de los espacios cotidianos no los espacios naturales donde hay las pistas de esquí donde hay los parques naturales sino en la parte central del valle donde pasan las cosas donde viven las personas ahí es donde se han identificado más valores más transformaciones y tal y la tercera es que el resultado de este mapa este mapa en sí es fruto de un resultado de un trabajo colectivo ayuntamientos entidades personas y evidentemente expertos de ambos lados de la frontera esto ha permitido hacer una leyenda ya de proyecto directamente con este mapa con muchos elementos esto forma parte de un plan transfronterizo que en estos momentos está funcionando en temas de formación gestión etc etc esto sería la segunda iniciativa que quería explicar explicarles un poco más a un nivel más a una escala más baja pero con esta dificultad de que es un proyecto transfronterizo y que estamos pensando en un territorio transfronterizo teniendo en cuenta diferencias legislaciones etc vamos a ver una tercera experiencia que es actual no está finalizada y por lo tanto lo que van a ver ahora es algo en proceso en construcción que es el mapa de la estrategia nacional del paisaje de Andorra es una experiencia basada inspirada en el mapa anterior de la sardaña pero aquí lo interesante es que normalmente estamos acostumbrados a conocer las estrategias nacionales como documentos con mucho texto y fundamental para entender la filosofía pero poca concreción para decirlo así aquí estamos en un territorio pequeño es un territorio es un estado que es Andorra que todos conocemos es un estado muy pequeño que tiene la dimensión de una unidad de paisaje casi y por lo tanto es un buen laboratorio es un buen espacio para ensayar nuevas formas de planificar colectivamente el paisaje y esto es lo que estamos intentando hacer y estamos ya en las fases finales es decir vamos a traducir la estrategia al horizonte 2035 en un mapa parecido al de la sardaña pero con avances con mejoras y haciendo un paso algunos pasos adelante esta es la inspiración pero aquí ha habido un proceso muy interesante de trabajo con los ministerios con los agentes con todos los municipios que son siete municipios en Andorra para ir construyendo para ir redactando conjuntamente y este es un poco el factor innovador se ha redactado conjuntamente los principios de la estrategia los objetivos de la estrategia y las líneas de actuación de la estrategia es decir ha habido muchas reuniones para ir consensuando a los diferentes niveles nivel gobierno y nivel municipios este redactado esto quizá quizá es posible o ha sido posible porque estamos en un territorio pequeño y que además se conocen los unos con los otros muchas veces pero no deja de ser complicado porque son lógicas completamente diferentes y con intereses completamente diferentes al final han salido cuatro principios fundamentales siete objetivos de calidad paisajística uno para los paisajes de alta montaña otro para los paisajes agrícolas rurales otro para los paisajes urbanos otro para los paisajes fluviales otro para las para las actividades de esquí servicios turísticos etcétera otro para las infraestructuras por lo tanto infraestructuras energéticas infraestructuras de comunicación y otro objetivo de calidad más relacionado con las cuestiones de elementos de referencia culturales simbólicos identitarios de Andorra de los paisajes de Andorra y otro elemento que me parece interesante es que la construcción del mapa que aún no tenemos pero aún no tenemos diseñado pero que toda la construcción del mapa se ha hecho a partir de un proceso ayuntamiento por ayuntamiento donde cada uno ha introducido los elementos en un mapa en el mapa digital en una herramienta digital de Google que hemos construido y por lo tanto el mapa final será resultado de las aportaciones de cada uno de los ayuntamientos de Andorra y de sus aspiraciones esto me parece muy interesante porque es un paso más en el sentido que la construcción del mapa es completamente colectiva y a partir de lo que evidentemente hay un contraste hay también trabajo de campo pero ahí habrá bueno es una estrategia que ya nace con un consenso desde el principio y esto es lo que hemos intentado colaborar con el gobierno de Andorra aportando esta metodología que esto implica que este mapa esta estrategia no se puede definir en cinco meses hemos necesitado dos años porque además ha habido la pandemia pero ya nace más consensuada esperamos esperamos esta es un poco la idea voy a la a la cuarta iniciativa que quería comentarles esto es una nos quedan cinco minutos si cinco minutos vale pues acabo con esto de acuerdo pues acabo con esto esto es una este es un territorio que es un territorio agrícola del que se llama Priorat y que es un territorio que hace ya bastantes años estaba en un proceso pues de despoblación de pérdida de agricultura con muy poca autoestima del territorio etcétera y a raíz de la de la amenaza que consideró el territorio que había por la proyección de unos parques eólicos en una sierra que era una sierra emblemática y simbólica para este territorio esto generó una reacción por parte del territorio un debate una reflexión y pensaron nosotros tenemos valores vamos a no solo a decir no a este proyecto sino a construir un proyecto de futuro basado en los valores del territorio desde hace años empezaron a hacer seminarios junto con las denominaciones de origen es un territorio vitivinícola es un territorio que tiene una arquitectura muy interesante tradicional es un mosaico agrario de pequeña escala mediterráneo no es un territorio que tendría una calidad excepcional por algún elemento concreto sino que es la interacción de diferentes es un patrimonio ordinario son paisajes ordinarios pero son vivos productivos humildes y piensan entre todos piensan en este territorio pensar en una candidatura a UNESCO una candidatura a UNESCO pero con la diferencia y la singularidad de que la finalidad última no es recibir la marca UNESCO sino todo proceso que han hecho de reconocimiento de los valores del territorio al final después de todo este proceso que ha durado más de 10 años lo que tiene es una sociedad consciente de su territorio consciente de su paisaje nosotros los hemos ayudado en cuestiones científicas en temas de participación y al final y esto es un poco la declaración final que nos hemos dado cuenta en los últimos años que realmente es un territorio que ayuntamientos denominaciones de origen de vino de la gente ciudadanía escuelas etcétera son conscientes de su territorio y por lo tanto ha valido la pena este proceso que han hecho ahora la candidatura está parada están bastante pero es muy interesante cómo han tomado conciencia de su territorio y ya para terminar un minuto si me dejan un minuto solo la quinta y última iniciativa es una iniciativa estrictamente ciudadana de inventario e gestión inventario de patrimonio de la piedra en seco que es un tipo de patrimonio identitario que conoce muy bien en Italia y que forma parte de la conca mediterránea y esto son personas voluntarios más de 200 que poco a poco han ido haciendo un inventario hasta el punto que en estos momentos hay casi 30.000 construcciones 30.000 en 10 años construcciones de piedra en seco esto son casi 5 construcciones por día es un inventario que se hace con una aplicación y vas poniendo la información y es consultable por todo el mundo se llama Wikipedia jugando con la idea de Wikipedia colaborativo pedra es piedra por lo tanto es un proyecto de base social de base local de personas que se dedican a este tema e que produce una información de calidad que ahora es utilizada por departamentos primonio de pasajes patrimoniales de la piedra en seco y al servicio también de la concienciación bueno con esto ya termino son 5 experiencias a diferentes escalas con diferentes actores con diferentes protagonistas pero pienso que son experiencias que nos ponen de relieve nos ponen de relieve la importancia de la implicación y el trabajo en comunidad para realmente llegar más adelante tomar conciencia del territorio planificar conjuntamente llegar a consensos y afrontar estos retos que tenemos de transición ecológica entre todos desde el paisaje muchas gracias muchas gracias muchas gracias Pera gracias por esta generosísima carrellata de experiencias de proyectos de imágenes y este racconto sobre la actividad pero también sobre los procesos y las acciones que el observatorio del paisaje en el corso de estos años han podido hacer sobre el territorio catalano pero también para ofrecer ejemplos fornir prácticas fornir metodologías que puedan tranquillamente así como es accedido por la Serdania svalicando los confines amministrativos particolarmente interesante es también reprendiendo un poco los discos que se han se han anellado en estos dos días en la jornada de ieri pensando al tema de los lugares más veces enfrentados es el valor de la mappa de las 134 unidades de paisaje de la Cataluña porque como dice el direttor de los observadores del paisaje no solamente ma restituisce la diversidad paesaggística de la Cataluña pero lo hace a través de la aplicación de la definición de paisaje data dalla Convención Europea del Paisaje y metiendo a sistema la percepción de las personas es una mappa que restituisce la percepción directa de las comunidades y el sentido de la apariencia de reconocimiento de efectivo con un territorio que es percepido como lugar fortemente sentido de parte de la comunidad en este sentido es un instrumento preziosísimo para poder interagir e confrontar con los territorios porque son comunidades que reconocen el propio ambiente el propio espacio el propio ambiente de vida el lugar donde se svolge la propia producción la propia existencia y que es completamente scevro da un incasellamiento all'interno de confines amministrativos no ci son frontiere se no que le imposte dal senso di comunità e dal senso di riconoscimento dello spazio e del territorio all'interno del quale vivono e quindi credo che sia effettivamente un ulteriore di questa tua presentazione e di questo contributo grazie davvero rimaniamo spero che tu possa rimanere qua con noi collegato abbiamo adesso degli altri interventi dei nostri ospiti e passo la parola a Luigi per introdurre il nostro prossimo ospite grazie allora io direi di fare così teniamo quest'ordine Alfonso Femia Michelangelo Pugliese poi chiudiamo con Oscar Borsato se Alfonso Femia è in linea come si vedeva prima eccolo eccolo allora c'è una piccolissima introduzione Alfonso Femia è una personalità di spicco del mondo dell'architettura insomma è autore di numerose architetture master plan nella precedente configurazione professionale poi in quella successiva insomma l'archistare è una definizione che non amo moltissimo però diciamo purtroppo è il termine che giornalisticamente viene utilizzato in questi casi ma questa brevissima introduzione in realtà la volevo alimentare con una domanda io ho avuto modo di vedere in anticipo la presentazione di Alfonso che naturalmente come raccontavo prima nella introduzione iniziale fa riferimento alla qualità della città alla convivenza urbana ai temi che appunto sono legati a una proiezione al futuro di quello che sono le nostre realtà urbane in una immagine diciamo che si riferisce a un'idea di città carbon free ma anche a una città che sappia cos'è davvero l'inclusione sociale cos'è davvero la giustizia sociale cos'è davvero la partecipazione e le infrastrutture che sono capaci di accogliere questa allora l'occasione vorrei fare questa domanda ad Alfonso conoscendo poi anche l'apporto culturale su cui è impegnato soprattutto sul tema delle scuole la domanda che iniziale che vorrei fare poi naturalmente lo lascio alla sua presentazione è rispetto a un dibattito che in questi anni ha posto al centro dell'attenzione appunto il rinnovamento delle infrastrutture per la formazione mi viene in mente nel 2013 l'idea delle linee guida del ministero della pubblica istruzione con l'introduzione di quel concetto di civic center collegato appunto alla scuola che doveva essere in qualche maniera il perno fra gli standard urbanistici fra le dotazioni urbane della città pubblica mi viene in mente anche nel 2017 il progetto di Renzo Piano con i famosi sette punti della scuola nel Lazio insomma la domanda che faccio è questo a che punto siamo con appunto l'idea di rinnovamento di una scuola che possa essere calata appunto in un'idea di città nuova in un'idea di città carbon free in un'idea di città che sta nel tema della transizione ecologica perché questo è un tema come dire che ci aiuta a essere sintonizzati su quello che è il titolo della nostra iniziativa progettare la transizione ecologica e poi naturalmente c'è tutto il resto grazie Alfonso a te grazie a voi grazie a invito e condivido diciamo l'iniziativa importante di continuare a confrontarsi in maniera concreta e con tanti sguardi come state facendo ma se la tua domanda è una domanda a me viene da rispondere assolutamente a che punto siamo e siamo in forte ritardo nel senso che siamo in forte ritardo e forse rischiamo anche di non centrare il focus cosa voglio dire io credo credevo crediamo nel lavoro che abbiamo fatto diciamo fino ad oggi che la scuola proprio perché è il luogo del pensiero della condivisione del tempo e della produzione diciamo della nuova società deve doveva deve essere diciamo il baricentro diciamo tutti gli altri temi perché è il luogo pubblico per eccellenza dove è possibile condividere tutti gli altri temi quindi ad oggi è vero lo vediamo soprattutto in questa settimana che il tema sta ritornando deve essere un po' più tra i temi che vengono elencati per essere affrontati ma io ho paura che vengano sempre affrontati sempre con una logica diciamo vecchia nel senso nel senso mentre la grande occasione c'era una scuola sociale l'impact è capire che bisogna riusciare il canocchiale partire dalla scuola per ripensare la città partire dal tema della scuola che ha tutti gli elementi principali della problematica della città per poter un po' più invece converge attraverso questo tipo di grande tema quindi sono sempre fiducioso ma ho sempre paura quando si comincia a immaginare di pensare che bisogna studiare quale sistema prefabbricato bisogna impostare quale modello bisogna ripetere non credo che siamo di fronte a un tema di modelli ma siamo di fronte a un tema di grande responsabilità e ho apprezzato moltissimo perché stanno parte anche delle mie parole le parole per pensare la prima perché parla giusto diciamo di società civile di tempo di educazione attraverso il progetto lo sguardo allora se noi concepiamo la scuola sempre come un luogo puramente anche fisico e non come il luogo dove poter una dimensione sociale economica culturale politica del futuro e non come un luogo attraverso il progetto oltre